Ciao bambini e benvenuti nel nostro canale Libri e Felici, oggi in compagnia del libro Vuoi essere mio amico? Oggi la topolina è annoiata, decide quindi di uscire dalla sua tana e di cercarsi un nuovo amico. Vuoi essere mio amico? Ma qui c'è una lunga coda e questa coda di chi sarà? Di un cavallo! No grazie, ne trisce il cavallo, intento a brucare l'erba. E tu vuoi essere mio amico? E di chi sarà questa coda? Di un coccodrillo e continua a esserci questa lunga coda? Assolutamente no! Sbottò il coccodrillo, mostrando i suoi dentoni. Neppure io, cinguetta l'uccellino, appollaiato su di lui. E tu vuoi essere mio amico? E di chi sarà questa coda? Ah, di un leone! No! Ruggisce il leone, scuotendo la sua folta criniera. E continua ad esserci questa lunga coda. E tu vuoi essere mio amico? E di chi sarà questa coda? Di un ippopotamo! No, di certo! Borbotta l'ippopotamo, correndo verso il fiume. E tu vuoi essere mio amico? Con questa lunga coda e quest'altra di chi sarà? Oh no! Sbuffalotaria, seccata, ecco di chi era! E tu vuoi essere mio amico? C'è sempre questa coda e questa di chi sarà? Della scimmia! Nemmeno per sogno, grida la scimmia. E tu vuoi essere mio amico? Questa è facile! E continua ad esserci questa lunghissima coda. Il pavone! No, no, e poi no! Dice seccato il pavone. E tu vuoi essere il mio amico? E di chi sarà questa coda e questa che continua? Certo che no! Risponde la volpe, indispettita. E tu vuoi essere mio amico? Ma di chi sarà questa coda? Del canguro! Non se ne parla proprio, tuona mamma canguro, saltellando via. E questa coda continua. E tu vuoi essere mio amico? E di chi sarà? Della giraffa! Penso proprio di no, sospira la giraffa, abbassando il lungo collo. E tu vuoi essere mio amico? Continua questa lunga coda. E questa piccolina di chi è? Sicuro! Squittisce un simpatico topolino. Veloce, seguimi nella mia tana. Guardate questa lunga coda che continua. C'è un tipo che striscia sibila e... Che ha molto appetito! Ecco che cos'era, era un serpente! E il topolino l'ha salvato! Finalmente! Ha trovato un vero amico! Se vi è piaciuto, cliccate mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ciao! Ciao!